Ho imparato a essere contento dello stato in cui mi trovo, scrive San Paolo. So essere sobrio e so essere nell'abbondanza e soffrire l'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Vivere con semplicità, sapersi accontentare e valorizzare ciò che si ha, è una delle più grandi arti della vita. Chi si contenta gode, recita un proverbio popolare, un'espressione che sintetizza perfettamente la saggezza di coloro che hanno capito che per vivere bene è sufficiente poco. La corsa frenetica al soddisfacimento dei propri bisogni egoistici, volta allo scopo di colmare un vuoto da noi stessi alimentato, è simbolo di un'umanità infelice, irrequieta e consumatrice. Nello scenario della società dei consumi, come si consumano gli oggetti, si consumano anche i sentimenti, le emozioni e la felicità stessa. Alla ricerca dell'effimera novità del successo fine a se stesso o di un accumulo maggiore di denaro, si finisce per perdere la serenità e la salute. Non vi è dubbio che buona parte dei nostri problemi siamo noi stessi a procurarceli per la nostra incapacità di accontentarci, di stare tranquilli, di essere buoni e fare la propria parte con umiltà e dedizione. La frenesia è la caratteristica dell'anima irrequieta ed infelice. Dante descrive i dannati all'inferno come mossi da costante ansia e frenesia. Un invito a tutti è di apprezzare ciò che si ha, valorizzarlo e farlo crescere. È il più comune degli errori disprezzare o, peggio ancora, dare per scontata la propria fortuna. Basterebbe un giro in un reparto ospedaliero per vedere tutte quelle persone paralizzate, ridotte in fin di vita o, peggio ancora, che darebbero qualsiasi cosa pur di poter camminare, respirare liberamente o tornare semplicemente a vivere. E noi, invece di apprezzare la fortuna che abbiamo, siamo solo capaci di lamentarci, imprecare e volere sempre di più. Accontentarsi non vuol dire essere privi di aspirazioni, ma essere grati alla provvidenza per gli innumerevoli beni che ogni giorno ci elargisce e che diamo per scontati. Dietro la comune aspirazione si nasconde in genere l'anima egoista, avida e superba. Si cerca di raggiungere l'obiettivo tanto agognato solo per soddisfare il proprio ego, la propria brama di potere. È quella a cui assistiamo ogni giorno nella politica, nei media, nella società civile, l'ego elevato all'ennesima potenza che conduce il mondo verso il disastro, la discordia e la divisione. Chi ama il bene deve al contrario vincere il proprio ego, farsi umile, mettere in pratica i propri doni per il bene comune e pretendere per se stesso ciò che è utile per una vita sana e dignitosa. Ma io voglio di più, diranno alcuni, desidero più soldi, più potere, di più. A costoro non possiamo che rispondere con le sempre attuali parole evangeliche, che gioverebbe a un uomo guadagnare tutto il mondo se perdesse l'anima sua. A cui noi aggiungiamo, a che giova un uomo tentare di guadagnare il mondo intero se in cambio perdesse la calma, la serenità e soprattutto quanto vi è di più importante, la salute? A chi legge e a chi ascolta l'ardua sentenza.